Salve a tutti, io mi chiamo Cristina, oggi ho fatto questo meraviglioso corso, non avrei mai pensato di poter vivere un'emozione così forte, di riscoprire una parte di me che era praticamente addormentata e scoprire che anche tu fai parte del mondo ed essere veramente un essere di luce, qualsiasi cosa tu pensi a te, è qualcosa di meraviglioso e ve lo consiglio di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.